A sintonie Audio Video Expo 2023 al Palacongressi di Rimini il 15, 16 e 17 settembre c'è una sala che ha diviso una parte degli ascoltoni. Mi riferisco alla sala del giovane produttore bergamasco La Ho, specializzato in diffusori ad alta efficienza con le nuove Futur A7, un due vie dall'estetica molto personale da ben 97 decibel di sensibilità. Io purtroppo non sono riuscito ad ascoltarle, lo farò al Gran Galà di Milano il 21 e 22 ottobre. Nel frattempo invece ho ascoltato il sistema Oxygen, un tre vie con woofer da 10 pollici, completata in basso da ben due subwoofer B15 con woofer da 15 pollici, incrociati con i piccoli satelliti, si fa per dire, con un taglio a 24 decibel l'ottava. Dicevo che i sub sono tagliati a 65 Hz, ok? Con che tendenza? 24 dB ottava, quindi in realtà è molto più elevato lo sfasamento del filtro dalla distanza fisica che c'è tra il sub e il tristruttore. Qualsiasi altoparlante dove c'è un taglio molto basso, ha uno sfasamento che comunque è abbastanza importante, quindi in realtà in questo caso è minima la distanza che c'è tra il sub e il diffusore vero e proprio. Cioè fino a una distanza di circa un metro, un metro e mezzo del diffusore, lo sfasamento è praticamente nullo, con una frequenza di taglio così bassa. Se vuoi sentire anche le altre, ti faccio sentire anche le altre, le rosse. Poco prima che smontate, un attimo. Scusate, prossimi eventi? Il prossimo evento è ottobre. Ricci, ti faccio lo switch, così senti. 15 minuti, non 10. 15 minuti, perfetto. Ti faccio lo switch. Facciamo sentire al Signore. Ok dai, a dopo. Scusatemi. Salto. Ciao.